Senso della storia e atteggiamento di servizio. Tra questi due poli oscilla la vita del cristiano, chiamato a seguire l'esempio di Gesù. Lo ha ricordato Papa Francesco durante la messa celebrata nella cappella della Casa Santa Marta. Nell'Omelia il Pontefice ha rimarcato che la storia dell'uomo è segnata da grazia e da peccato e che i cristiani non sono uomini e donne spirituali da laboratorio, ma creature con una vocazione specifica. L'identità cristiana è il servizio. Non l'egoismo. Ma Padre, tutti siamo egoisti? Eh sì, è un peccato, è un'abitudine dalla quale dobbiamo staccarci. Chiedere perdono che il Signore ci converta. Ma siamo chiamati al servizio. Essere cristiano non è un'apparenza o anche una condotta sociale. Non è un po' truccarsi l'anima perché sia un po' più bella. Essere cristiano è fare quello che ha fatto Gesù, servire. Lui è venuto non per essere servito, ma per servire. Grazie. 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 Grazie.